Una borsista del Mario Negri Sud, un'operaia della Ex Gold Lady, un operaio della CGL in mobilità, amministratori ambientalisti locali, avvocati esperti in diritto del lavoro e diritti civili, sono i candidati della lista Un'altra Regione con Acerbo, che nella circoscrizione della provincia di Chieti sosterrà Maurizio Acerbo, candidato alla presidenza della Regione Abruzzo, alle elezioni del 25 maggio. Questa è l'unica lista di sinistra e ambientalista, ha detto Acerbo in conferenza stampa a Chieti. Il resto sono due di centrodestra o la raccolta di lettori delusi del centrodestra e del centrosinistra. Una lista dentro la quale ci sono rappresentanze dell'altro Abruzzo, non quello delle clientele e dell'affarismo. Perché dico questo? Perché questa è l'unica lista di sinistra e ambientalista in Regione. Il resto sono due centrodestra o la raccolta di elettori delusi del centrodestra e del centrosinistra. Noi vogliamo portare in Regione l'Abruzzo che lotta e si batte per cambiare le cose e che non si è svegliato l'altro ieri ma che è una vita che si batte per una politica diversa, per una politica pulita. Noi, ha aggiunto Acerbo, siamo gli unici a portare avanti con coerenza nei territori e dentro le istituzioni la stessa battaglia contro la petrolizzazione e la subalternità della politica a chi fa business dei rifiuti, contro gli inceneritori, l'eolico selvaggio, le biomasse sparse nel territorio, per la salute dei cittadini, per la valutazione di impatto sanitario, per l'acqua pulita. L'attuale governo di parte...